Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Robocraft Oggi sono qui con il mio croce rossina Con i nuovi TX ragazzi Allora, questi scudi si chiamano Mega Plate TX1 E Mega Plate TX1 B e B Perché praticamente ci sono anche gli A Che sono l'altra tipologia Allora, si sbloccano nel Tech Treat Costano una cifra Ci stanno questi che sono i Plate Al TX1 E Al E AR TX1 Perché uno al sinistro e uno al destro Che sono quelli per fare la forma, diciamo, frontale di una navicella E invece questi sono i Mega Plate BLTX1 e BRTX1 Quindi sinistro e destro Che sono quelli lunghi con cui ho modificato il mio croce rossina Allora, non ho ancora messo propulsori L'ho fatto molto al volo Era soltanto per farvi vedere più o meno il funzionamento E l'utilizzo che ci si può fare Si può utilizzare tranquillamente per un overcraft curatore Allora, sicuramente è da fare un po' meglio E da fare un po' più stretto Però dovrebbe funzionare Quindi, ragazzi, andiamo a fare le tre partite Per vedere se funziona o meno Ragazzi, eccomi nella prima partita di oggi Allora, vediamo che riusciamo a combinare con il curatore Madonna, com'è strano È fatto veramente strano Vola? Gira? Eh, però con l'overcraft mi ce devo abituare Non ci riesco ancora a essere molto stabile Va bene, andiamo a vedere che riusciamo a fare Sono partite le prime cure, ragazzi Dai, dai, dai Prima battaglia iniziata Allora, dovrei alzarmi per curare al meglio Perché posso curare verso il basso Tutti e quattro i lati Guardate Basta che non te sposti Ciccetto Ah, quello dietro non riesce a curare Ok Quindi dovrò fare qualche modifica Ok Sono tutti full Mi dovrei riabbassar Ah Cure, cure, cure su di lui Dai che me ti metto sopra e te curo 100% Gli scudi reggono, ragazzi Gli scudi reggono Medic Sto curando Shadow Eh, guarda Sprite La Spirit Vai, vai, vai Spirit Ti salvo io Sto curando un po' tutti Dai, dai, dai Non ce la farai a buttarmi giù Ho i nuovi scudi Sono figo Anche quello c'ha due nuovi scudi Mi sa Frontali però Vediamo un po' che riusciamo a fare Oddio Qualcuno mi ha colpito Ah, ah, ah Ce l'hanno col curatore Il curatore è rimasto con due sparetti A chi sto curando? What the fuck A quello? Ok Non mi riescano a fare abbastanza danni Reggo una cifra con questi scudi È buona È buona sta cosa Yeah Sì Sparatemi Tanto non mi fate una mazza Guardate Guardate Ok Mi hanno shottato Sono durato anche troppo Va bene Andiamo a fare la seconda partita Ok ragazzi Siamo nella seconda partita La prima è andata abbastanza bene Abbiamo testato che la resistenza di questo robottino è eccellente E niente ragazzi Sono durato molto Mi hanno rotto un po' tutte le cure E devo dire che è fattibile come robot Quindi vediamo questa se riusciamo a vincerla Cominciamo con le cure ragazzi Si comincia Olè Ci dobbiamo alzare un pochino per curare al meglio Ok Vai vai Curalo 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 così Vai Oh full Però sta cappottato quel tizio 93% Cioè mi ha preso a me Non ha preso quello dietro Che stile Ho fatto da scudo Ok Io direi che possiamo continuare a curare il tizio 100% Tanto è inutile che gli sparate Vi è fullo Li fullo Non li prendete Non gliela fate Ci hanno il curatore appresso Oh No è Mesare no però Oh 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 Sono entrati tutti in base Sono entrati tutti in base Si ma questo è scarso Però io sto a curare lo scarso del mondo No dai Vai Dai picchiali Cosetto Dai Dove che fai scappi Spara Spara Plasmino della fava No mi hanno rotto lo shield Oh e i rail non mi ammazzano Sono rimasto con una cura Ho fatto anche una laggatina I server di robocraft che laggano What Ce l'hanno con me Ce l'hanno con me Vogliono prendermi lo mino Non me lo prenderai mai Shield Sono protetto dallo shield No ho finito gli shield No Adio Ciao Adios Amigos Guardare come si muore sulla base avversaria ragazzi Con tre cosetti per volare E non riescono a chiapparmi Piglame 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 dai Piglame Mazza Ma gliela fai a piamme Gliela fai a piamme Gliela fai a piamme Non gliela fai a piamme No gliela fai Guarda lì Guarda lì che me sto inventando Ok Morto team defitter Ero l'ultimo vivo Eccoci ragazzi Sono nella terza partita di oggi Va bene Ne abbiamo perse due Sempre per il team Però perché alla fine Sono rimasto l'unico sopravvissuto Quindi vuol dire che il mio robot Era bello resistente Ma hanno bersagli attaccati E mi hanno levato anche tutti gli shield Piano piano A forzare schiaffi Va bene Andiamo a vedere questa come va Speriamo almeno di vincerla Secondo voi la vinco O la perdo questa? Ok Me lo dite dopo nei commenti A dopo Olè Sono cominciate le battaglie E forse abbiamo trovato il team buono Dai Dai cavolo Killalo Killalo Fagli sentire il dolore Dai Ti do una mano Su Perfetto Così vi voglio No no Stanno a vincere loro No sti cavoli Vado a conquistare io adesso Ok Nel loro Nel loro Nel loro Stiamo conquistando Adesso noi Ok Sta arrivando a curarlo E mi vado a mettere io qui Appoggiato Alla faccia vostra Con tutte le cure Te curo Oh Cento danni Non mi hai fatto niente Cioè Ok Perfetto Questa la vinciamo ragazzi E mi sono appoggiato E curo così Cioè GG Questa è stravinta raga Dai Questa è stravinta Da appoggiato Capito Mamma mia Dai Vittori Tutti morti Vittoria Vittoria Ci vediamo al garage Ragazzi Eccoci al garage Abbiamo fatto una vittoria È stata iper Iper veloce Finalmente ho trovato Un team serio Un team che sa giocare Cavolo Va bene Sono state delle bellissime partite Devo dire che Regge veramente Veramente Tanto Mi hanno tirato un colpo diretto Zero danni Finalmente Come succede a me con gli altri Perfetto Questa è la nuova croce rossina Con i nuovi TX Potenziati Questi shield enormi Che ce ne ho Due sopra E due sotto È totalmente protetto Da sopra e da sotto È assurdo Bello 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 Va bene ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Ricordiamo E arriviamo a una trentina Quarentina di mi piace Per questo robottino Che ne dite È un po' scrauso Però Gliela tira Va bene Ci vediamo Alla prossima puntata di Robocraft Alla prossima puntata di Robocraft Alla prossima puntata di Robocraft